Ci siamo, stasera si festeggia questo grande ritorno, un anno di purgatorio, si torna in Serie A? Sì, siamo contenti perché non era facile dopo così poco tempo essere riusciti a tornare su, una grande e bella soddisfazione, siamo stracontenti, è giusto festeggiare, quindi speriamo sia una bella serata insieme ai nostri tifosi, alle persone care e alla gente di Siena che ci vuole bene. L'abbraccio di un'intera città, l'altra volta per la precedente promozione non ci fu questa festa, stasera è bene dirlo, la città è qua per la Roblox. Sì, stasera penso che ci sia tanta gente, è una cosa un po' nuova, un po' diversa, siamo contenti di festeggiare insieme perché durante l'anno i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, ci ha sempre aiutato e tornare in Serie A è una cosa bellissima sia per noi giocatori che per i tifosi che per tutta la città perché di sicuro ci guadagneranno tutti.